Allora, un bel banchetto a favore della Fondazione Ascoli, cioè di bambini che lottano contro gravi malattie e la curiosità intrigante sono gli artefici di questi oggetti. Allora, i ragazzi dell'IPC e Naudi hanno partecipato a un corso pomeridiano per il progetto delle scuole aperte contro la dispersione del PNRR. Hanno imparato a usare ago e filo, forbici, e hanno costruito tutto quello che voi vedete esposto in questo banchetto. Naudi sta costruendosi una storia di beneficenza. Quest'anno ho fatto una collaborazione con la Fondazione Ascoli.